Antares è quello che vedete alle mie spalle, è essenzialmente il progetto di ristrutturazione e di rinnovamento della nuova sede amministrativa qua a Lodi di Ipsa. Come potete vedere già direttamente dietro di me, nuovo colonnato, nuovo parcheggio, ampliamento delle postazioni ufficio, delle postazioni di lavoro, quindi insomma un bel progetto e un bel biglietto da visita. Il colonnato penso parli da solo, significativamente d'impatto soprattutto arrivando dalla tangenziale. A terra si possono vedere quelle che in questo momento sono delle bottoline gialle, sarà riempita con un faretto durante ovviamente le ore notturne, illuminerà tutta la struttura e potrà anche ricreare eventuali giochi di luce proprio a impreziosire quello che è già un progetto già di per sé significativamente bello da un punto di vista architettonico. All'interno del progetto durante proprio tutta la fase di progettazione si è sempre posta un'attenzione significativa a quelli che sono determinati elementi legati principalmente al dipendente. Si è fatto uno sforzo significativo proprio per garantire un'esperienza piacevole all'interno dell'ufficio e rendere quanto più piacevole possibile la permanenza in ufficio, sia all'interno che all'esterno. L'elemento di entusiasmo è il grande lavoro di gruppo che stiamo facendo come servizi tecnici per mandare avanti il progetto. Magari non si vede ma vi posso assicurare che c'è un gran lavoro dietro e sono veramente orgoglioso di poter lavorare in questo modo.